I cittadini di Villanova e di Coglio al Metauro l'hanno sicuramente vissuta da ancora prima che io diventassi sindaco questa vicenda, cioè la discussa realizzazione di una nuova palestra a Villanova che di fatto è andata, andava ed è andata a interferire su un'area che prima era di vita a parcheggio, un parcheggio a servizio di una zona sportiva già esistente. Questo ha fatto molto discutere, io mi sono insediato come sindaco che già questa diatriba era fortemente sentita, aperta, c'era stata una raccolta di firme contro questo progetto della passata amministrazione comunale, noi lo abbiamo portato avanti perché comunque una nuova palestra serve ed è di fatto terminata e sarà inaugurata già nelle prossime settimane, immagino settembre quando riapriranno le scuole, però abbiamo ritenuto utile, abbiamo fatto di tutto per realizzare vicino a questa palestra dei parcheggi che possono sopperire alle reali esigenze che ha quella area sportiva e quella zona. Ci siamo riusciti dopo lunghe trattative, lunghe discussioni, due sere fa siamo andati in consiglio comunale, abbiamo approvato una variante che prevede un'area edificabile di fianco alla palestra, ma diciamo a scomputo di questo che è un po' un'agevolazione tutto sommato giustamente che noi facciamo dei privati che gli consentiamo di realizzare lì dei lotti edificabili, però loro ci lasciano gratuitamente da subito in utilizzo e tra un anno in proprietà dei terreni, appunti ceduti al comune, che sarà nostra cura trasformare in parcheggi immediatamente come area sosta senza andare proprio a fare un nuovo parcheggio, proprio perché l'area ancora non è di nostra proprietà. Tra un anno poi quando sarà di nuovo proprietario realizzeremo un vero e proprio parcheggio per 60 posti auto pubblici adiacente alla nuova zona sportiva, quindi quella di Villanova è a questo punto e diventerà ancora di più un'area sportiva completamente funzionale con anche i parcheggi, anche i centri necessari a servizi, ma ci sarà palestra, campi da tennis, ci sarà il campo sportivo, campi da calcetto, ecco un centro sportivo vero e proprio che è proprio un arricchimento per tutta Colle del Metauro, credo per tutta la nostra ballata.